ciao oggi se riesco vorrei fare il tagliando il scooter aprilio gt 200 ho preso l'olio per il motore il filtro il filtro dell'olio una candela l ck le pastiche dietro dei freni e qui davanti in più il filtro dell'olio adesso preparo tutto e poi comincio a fare questo lavoro